L'hanno aggredita sotto casa, erano in due, lei 90 anni era appena scesa dalla sua casa a Monselice. Due sconosciuti le sono piombati alle spalle e le hanno strappato la collana che indossava. Troppo fragile per difendersi e immobilizzata dalla paura, la donna è caduta a terra e lì è rimasta fino a quando non le sono corso incontro alcune persone della zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la descrizione dell'accaduto e hanno avviato le indagini. La donna, spaventata ma non ferita, è stata riaccompagnata a casa. Anche a Padova nei giorni scorsi una donna è stata scippata della collana in un modo molto simile.